Oh, oh, un altro if, un altro if, non ci credo Se avete bisogno di crediti passate dal link di iscrizione E se mettete il mio codice coupon avrete un piccolo sconto Bella Bella ragazzi e bentornati sul mio canale Siamo qui oggi con un super pack opening Nella speranza di trovare proprio lui ragazzi La leggenda Più assoluta del calcio italiano Record man Gigi Buffon Poi c'è anche Pogba Fabregas Se non erro c'è anche il Pipita Molti altri ragazzi Anche Henry Kane Moltissimi giocatori pazzeschi Io devo dire subito di andare a cercare oggi Allora ci sono i pacchetti promo da 35k Apriamoli Visto che nell'ultimo video mi avete detto Tati ma dovevi aspettare E aspettare i pack speciali Promo E quindi ho detto vabbè Prossima pack opening Lo facciamo tutti con i pack promo E sti cazzi Visto che Dobbiamo assolutamente trovare qualcuno Attenzione Subito Terry Non male come giocatore Giocatori non male A cui a te Ottimi giocatori Allora ci sono sei pacchetti rimasti Bah Nella speranza di trovare qualcuno Visto che io i pack promo non li apro mai Vediamo un po' se stavolta portano fortuna No Chi è questo qua? Oh 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 Regà If Non ci posso credere Secondo pack Già l'if Non ci credo Giuro Non ci credo perché Non ho mai trovato un if ancora quest'anno Vediamo quanto vale Florenzi Beh 40 barra 50k Non male Florenzi Florenzino Lo teniamo Lo teniamo Viammelo al club E allora siamo partiti col piede giusto raga Finalmente Un if in a pack Incredibile State pregando con me perché Regà Dobbiamo superare i 200 like Dobbiamo superarli Perché da tanto che non Non superate Una certa soia Quindi regà Attenzione Arsenal Witcher Sorpresa Buonaventura Bradley Granero Manè Vabbè Questa volta è andato un po' Peggio Però E beh Se abbiamo trovato un if Dobbiamo assolutamente Trovarne un altro E perché no Un super Higuaín Un super GG Record breaker Sto pregando per trovare Boom Cassano Ok Come non detto Ultimi tre pack ragazzi Poi andiamo nei pacchetti normali Però sono già contento Perché ho trovato un if Che era da tanto Giuro da tanto Mi sono sbloccato Ma carino Lo troviamo ancora Vediamo un po' Berardi Non male Si sta prendo Si sta prendo Si si sta prendo Non lo guardiamo Guardiamolo ora Oh Un altro if Un altro if Non ci credo Non ci credo Ma perché sto trovando Gli pipponi Quanto vale Fabinho Non vorrà nulla Dck Vabbè dai Ultimo pacchetto E poi ci andiamo Ci avviamo negli altri pack Nella speranza di trovare qualcuno Ma ragazzi Che siamo vicini A trovarne un altro Milan Alex Alex E Chamberlain Andiamo in questi qua Da 15.000 Che sono infiniti Apriamo solo questi Vediamo Qui siccome avete detto Tati Apri solo i pack promo Va bene raga Va bene Sono con le spalle al muro Drogba Pisellone Drogba E affellai Pazzesco Dopo Davvero tanto Tanto tempo Troviamo di noi if Anche se non valgono nulla Però Sono contento lo stesso Dai Ci manca solo il botto Pastore Giru Guardi bei giocatori Regà Davvero dei bei giocatori Peccato che Non valgono nulla Dai raga Voglio un altro if Non ci sono senza tre Invece no Montero e Slimani E Piniglia L'uomo rovesciata Lo chiamavano così Va ragazzi Devo trovare assolutamente qualcuno La speranza di un altro if Per in Gibbs Boom Begovic Ultimi 40k Dai buffon Dove sei? Vieni datati Pur l'immagine di profilo Con te su facebook Anzi raga Se non mi avete su facebook Aggiungetemi su facebook Comunque seguitemi Andiamo un po' Attenzione Boom Pjanic Davvero dei giocatori Pazzeschi sto trovando Raga Ultimi due pacchetti E poi ci salutiamo Però Siamo soddisfatti questa volta Finalmente abbiamo trovato qualcuno Che vale Qualcosa Ultimo pacchetto E ci salutiamo Raga Dai Questo non lo schippiamo Lo guardiamo E siamo felici così Vediamo se troviamo il no Niente Peccato Abbiamo trovato C'è spenta la luce Finito il pack opening C'è spenta la luce Mi sembra giusto Ok si è riaccesa Senza che tocca nulla Rude Beh questo pack Mi ruedo leggermente Perché con i due if Poteva essere altri due if Importanti Invece no Però abbiamo trovato due if Che ci hanno fatto Comunque sorridere Dai Spero che vi ho Strappato il sorriso anche a voi Con questo pack opening L'ultimo pack opening Purtroppo non l'avete visto in molti Perché youtube non ha inviato le feed Spero che questo video youtube Mandi le feed Se siete arrivati a questo punto Del video Iscrivetemi Chi avete trovato Qui sotto Voi Nei pacchetti Se li avete aperti Oh Che squadra avete Andavo a trattare una bella gnocca lì E niente raga Io spero di avervi divertito Spero di strapparvi sempre un sorriso Perché E' questo il mio intento Datatine è tutto Spaccate il like Iscrivetevi Perché se no Siete game over Tutti i link li trovate Qui sotto Nella descrizione Datatine è tutto Beh Valencia Finiamo così All ball All ball